Dette a 1 ... samples Mangi mio bambino sono stati molto cleansiati ad affrontare questa nuova vittura mia figlia era andava a casa, andava sempre tutti i giorni, tutte le ferite, e essendo piccola, riesce a riconoscere un elemento, un museo, mamma, un quadro, e riesce a riconoscere così tutte le offre. E subito, la imparata ci vende, e noi siamo contenti, i genitori, che con questo metodo riusciranno ad affrontare con le storie mentali, quello che puoi dire, io non sarei graficato.